Ascoltiamo la terra sarà una vera immersione nel mondo agricolo e rurale, matrice essenziale di questo territorio. La fiera agricola Fano Geo si presenta puntuale alle porte dell'estate con tutti i suoi eventi che da sempre richiamano operatori agricoli e appassionati, ma naturalmente anche tanti bambini che come sempre con la didattica imparano a conoscere da vicino la campagna e il suo mondo. Sarà veramente una manifestazione piena e importante sul mondo dell'agricoltura che invitiamo tutti a visitare perché ci teniamo a sostenere questo nostro mondo agricolo. Da lì non sarà finita perché si apre la settimana della festa della mietitura che sarà al 30 e al 31 a Falcinetto Park. La novità di quest'anno è che la Proloco è riuscita a riunificare il suo dalizio con la festa della mietitura al Falcinetto Park. Quelli che facciamo effettivamente coltiviamo il terreno, lavoriamo la terra, produciamo i prodotti. La fiera ha sistemato più l'altro aspetto che è il mercato, che è la vendita dei prodotti che sono i mercatini e sono fatte apposta per stare insieme e quest'anno ci riproviamo. Appuntamento quindi dal 22 al 24 per Fanogeo al Codma di Rosciano e dal 27 al 31 maggio al Falcinetto Park per la festa della mietitura. Grazie.